Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Oggi sabato 4 marzo. Apriamo il notiziario con una notizia per una volta dolce. A gallerata in questi minuti si sta tentando di conquistare un prestigioso record a base di cioccolato fondendo una tavoletta lunga 15 metri in piazza Libertà. Da ieri e fino a domani infatti è in programma la prima edizione di Choco Moments, grande festa del cioccolato artigianale messa a punto grazie a una collaborazione tra il Comune e Choco Moments, impresa che raduna cioccolatieri da diverse parti d'Italia. Tantissime le bancarelle di cioccolato presenti e poi ancora giochi per bambini e lezioni per gli adulti su come trattare un dolce per veri golosi. E a proposito di dolci, in questi giorni non può mancare il momento Masterchef. Oggi Edoardo Franco, il varesino vincitore della dodicesima edizione del programma di Sky, era in piazza Duomo a Milano a farsi tagliare i capelli da chef Barbieri. Vediamo com'è andata. Edoardo Franco, il 26enne varesino vincitore di Masterchef, ha mantenuto la promessa. Si è tagliato i capelli. Lo ha fatto questa mattina in piazza Duomo con un parrocchiere d'eccezione. Lo chef Bruno Barbieri in versione barbiere. Come detto, era una promessa. Edo, durante la trasmissione, aveva annunciato che in caso di vittoria si sarebbe rapato. Si parlava però di rasare Edoardo a zero. Invece lo chef Barbieri ha avuto la mano leggera. In dieci minuti una sforbiciata generale, macchinetta solo sulle basette e pettinatura professionale con un commento culinario. Sembrano delle belle tagliatelle. Il taglio è avvenuto tra una folla in delirio in piazza Duomo. Purtroppo però le cattive notizie non mancano mai. Ieri sera a Cadegliano-Viconago, tragico ritrovamento in via Viconago, dove in un dirupo dentro una zona boschiva è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 78 anni, residente in zona. L'allarme è stato lanciato dai figli, che non vedendolo rincasare, sono usciti a cercarlo. Subito è partita la richiesta di aiuto e sul posto sono accorsi i sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo però per Raffaele Riccio, storico calzolaio del paese, non c'è stato nulla da fare. E sempre nella scorsa notte a Varese otto ragazzi hanno collaborato con le forze dell'ordine a un programma di prevenzione stradale, On The Road. Sentiamo tutto nel servizio di Marco Croci con le immagini di agenzia Blitz. Notte di prevenzione On The Road, quella tra ieri e oggi per otto ragazzi impegnati nel progetto battezzato appunto On The Road. Unica in Italia, l'iniziativa rivoluziona il modo di educare la strada e la legalità e questo fine settimana sta facendo tappa a Varese. L'esperienza che coinvolge ragazzi tra i 16 e i 20 anni di età è stata fortemente voluta dal prefetto Salvatore Pasquariello, che aveva già avuto modo di apprezzare gli effetti positivi sui ragazzi quando era in servizio a Sondrio. I giovani varesini hanno preso servizio alle 20 di ieri in piazza Montegrappa e fino alle 24 si sono calati nei panni delle autorità e delle istituzioni nel corso di un servizio interforze. Hanno effettuato pretest agli automobilisti per ripeterli almeno due ore dopo e verificare la negatività del tasso alcolemico. Un invito simbolico ad una maggiore prevenzione e consapevolezza. Insieme a loro un dispiegamento di forze dell'ordine che ha attirato la curiosità dei passanti e della movida. Le attività proseguiranno oggi alla questura di Varese con la polizia di Stato e all'aeroporto di Malpensa insieme ai militari della Guardia di Finanza. Domani invece è previsto raffiancamento dei giovani agli operatori di 118 e 112. E ancora a Varese dove questa mattina c'è stato un presidio contro le stragi dei migranti in mare. In servizio di Adriana Murlacchi le immagini sempre di Agenzia Blitz. Si è svolto questa mattina all'inizio di Corso Matteotti a Varese il presidio contro le stragi del mare. Un'iniziativa organizzata e promossa dalla rete Varesini Senza Frontiere con l'adesione della CGL Donne in Nero, la Comune, Ampi, Controvento e altre associazioni ancora. Durante il presidio durato dalle 10.30 alle 13 in molti hanno preso parola su uno Speaker's Corner. È stata proposta la lettura degli articoli della dichiarazione dei diritti dell'uomo, quelli in cui si spiega che ognuno ha diritto di spostarsi liberamente. Manifestiamo contro questa politica orrenda che vuole naufragi per scoraggiare le partenze, ha affermato Giuseppe Musolino, uno degli organizzatori della manifestazione. Alla fine della mattinata è arrivata in Corso Matteotti una barra di cartone coperta da un foglio bianco, così da richiamare le bare dei bambini. E infine, sempre dal capoluogo, ecco le richieste degli ambulanti per migliorare il mercato. Ce le racconta Valentina Fumagalli con immagini blitz. Dove c'è l'attraversamento pedonale, l'alsemaforo, dovrebbero secondo me allargare un attimino il marciapiede anche per i disabili, perché in questo momento è fatta un po' una curva gomito. Possono sicuramente migliorarla di parecchio, sì, sì, sì. E certo che vista in una prospettiva comunque così bassa, cioè ogni banco fa colore. È uno spettacolo completamente diverso. Però anche le tende sono tutte uguali, non è che le si può pretendere subito, nell'immediato. Ci vogliono cinque, sei anni. Uno non è che le cambia ogni anno. Ci vuole il suo tempo, il suo... E ora ci spostiamo a Brinzio con Marco Croci che ci racconta le operazioni in corso per il salvataggio dei rospi. L'iniziativa si ripete ormai da qualche anno e nel tempo ha dato risultati preziosi in termini di tutela di questi anfibi. Sono riprese le attività di salvataggio e monitoraggio dei rospi da parte del gruppo Flora e Fauna delle guardie ecologiche volontarie del Parco del Campo dei Fiori. Dopo il posizionamento delle barriere a Brinzio e a Castello Cabiaglio, i volontari sono ora attivi per recuperare gli animali e traghettarli in sicurezza all'area umida più vicina. Gli anfibi infatti sono spinti dall'istinto verso le zone di riproduzione e per farlo devono spesso attraversare strade piuttosto trafficate, con il rischio concreto di finire schiacciati. Questo progetto, che va avanti dal 2001 a Brinzio e dal 2016 per Castello Cabiaglio, ha permesso di salvare oltre 13.200 anfibi, soprattutto rospi, da investimenti stradali, spiegano dall'ente Parco. Nonostante questi accorgimenti, è però fondamentale il contributo di tutti alla guida. Da fine febbraio a fine maggio è bene moderare la velocità dei veicoli quando fa buio, soprattutto se si percorre una strada che attraversa ambienti naturali, proseguono dal parco. Un comportamento che non solo tutela gli anfibi che si spostano verso i siti riproduttivi, ma anche la fauna nel suo complesso, e che permette di evitare incidenti potenzialmente pericolosi anche per l'uomo. Come sempre ogni sabato concludiamo con la ricca pagina sportiva. Nel basket domani l'OJM torna a giocare in campionato dopo tre settimane sul difficile parquet di Napoli. Il servizio di Giuseppe Sciascia, le immagini sono di Agenzia Blitz. Parte da Napoli la volata play-off dell'Open John Metis. La formazione di Matt Brasi partirà oggi pomeriggio, sabato 4 marzo, per Napoli, dove scenderà in campo domani alle 16, domenica 5 marzo, sul campo della pericolante Gevi. Sarà la prima delle 11 partite mancanti in due mesi. L'ultimo turno della regular season si disputerà il 7 maggio per determinare le otto qualificate per la post-season, dalla quale Varese manca ormai da cinque stagioni. L'ultima apparizione il 2017-18 con Attilio Caia in panchina. Varese riparte dal sesto posto, un gradino inferiore rispetto al quinto con cui ha chiuso il girone d'andata. Coppa Italia è andato in archivio senza grandi riscontri dal punto di vista del risultato del campo della deludente apparizione sul parchè di Torino alle Final 8, chiuso subito con Pesaro. Ora c'è da ricaricare le batterie cercando di recuperare al meglio Justin Reyes, che nel match del 15 febbraio era a passo molto affaticato ancora dai postomi di infortunio al ginocchio, per ripartire di slancio e fare subito bottino sul campo di una delle pericolante. Varese ha sei trasferte in 11 giornate e i play-off si conquistano non soltanto dunque nel fortino di Masnago ma anche in trasferta. E il match di domani sul campo di una Gevi che farà esordire il neoacquisto Thomas Wimbush è il primo step importante. E infine nel calcio per il campionato di Serie C, la Propatria ospiterà allo Speroni la capolista Prosesto. Calcio d'inizio alle 14.30. Le parole di presentazione del tecnico dei Tigrotti Jorge Vargas. Sì, è una partita delicata per noi perché pensavo sinceramente che potevamo fare molto meglio. Sono costate parecchie queste due sconfitte con le squadre alla nostra portata. Penso che ancora dobbiamo pensare partita dopo partita perché se pensiamo a lungo ci fa solo male e vedremo alla fine dove arriviamo. Però dobbiamo fare punti alla svelta perché il campionato è durissimo. Sappiamo che ogni settimana c'è qualche squadra che si gioca qualcosa. Ora è il processo, la prossima settimana è la Triestina e così via. Quindi sappiamo che il campionato è durissimo e il giro più complicato di tutta la Serie C dell'Italia. Quindi aspettiamo una gara tosta, dura perché loro stanno molto bene. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna domani sempre alle 19. Buona domenica!